Riunione operativa questa mattina nella Basilica Pontificia di Santa Croce per mettere a punto tutti gli aspetti relativi all'organizzazione della processione del carro dell'Immacolata. Ad un mese dall'8 dicembre iniziano dunque i preparativi e gli incontri istituzionali per definire e verificare tutte le questioni attinenti alla viabilità, alla sicurezza e all'ordine pubblico. Presenti all'incontro insieme al parroco Don Giosuè Lombardo il sindaco Giovanni Palomba, l'assessore alla cultura e agli eventi Enrico Pensati e rappresentanti delle forze dell'ordine. Siamo un mese dall'8 dicembre, c'è stato il primo incontro con Don Giosuè, con tutte le forze dell'ordine, con i vari dirigenti del comune per verificare tutto quello che serve per il buon andamento dell'8 dicembre e per la processione, quindi per quanto riguarda in particolar modo la sicurezza, quindi quello che bisogna fare in piazza Santa Croce, quello che bisogna fare per tutte le strade di Torre del Greco e diciamo che l'incontro è quello solido e poi ci sono altri incontri per coordinarci nel miglior modo possibile. Il percorso quest'anno com'è? Il percorso è lo stesso di due anni fa, non ci sono correzioni, si immagina che dopo due anni e dopo la pandemia e con i 160 anni di questa nostra festa ci sarà ancora più torresi e non torresi che saranno presenti l'8 dicembre di quest'anno.